A Hong Kong gli attivisti pro-democrazia sfidano Pechino cercando di salvare 2.000 criceti che il regime vuole abbattere per frenare il covid. Anna Mazzone. Non devi consegnare il tuo criceto. La resistenza contro il regime di Pechino a Hong Kong passa anche attraverso i criceti. Documenti falsi, animali nascosti, gli attivisti della ex colonia britannica sono impegnati in una vera e propria missione per salvare i roditori. Ma in ballo c'è molto di più. E' una sfida al regime che ha ordinato di eliminarne 2.000 con la stessa facilità con cui vorrebbe eliminare tutti i dissidenti. Martedì scorso due impiegati di un negozio di animali sono risultati positivi al covid. Le squadre per l'emergenza sanitaria hanno trovato 11 criceti infettati dal virus. Da qui l'ordine di consegnare tutti gli animaletti. Immediata la protesta contro la decisione del governo centrale, come scrive il Washington Post per gli abitanti di Hong Kong, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo una serie di restrizioni, ufficialmente anti covid, ma che hanno messo nel mirino gli attivisti pro democrazia. Anche chi non ha un criceto si è esposto contro Pechino. La governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, ha parlato di reazioni irrazionali sostenendo che gli animali sono stati eliminati umanamente, ma scommettiamo che decine di bimbi in lacrime non le hanno creduto. Una finestra su.